Tutto ciò che è nato dalle fotografie in realtà è sempre aberrato da quello che è l'obiettivo, quindi abbiamo parti che si sono dilatate o parti che si sono schiacciate. Perché se noi guardiamo per esempio in questo dettaglio qui, questa nera eide, vedete com'è esile, sembra una figura alla parmigianino di un grande manierismo cinquecentesco. Queste sono quelle deformate dall'obiettivo del fotografo che fece questo scatto, perché la fotografia che lui scattò dall'alto è un grandangolo che aveva il suo centro qui. L'occhio deformante del grandangolo ha reso tutto più lungo e ciò che stava ai lati. I della ricostruzione molto utili sono più le fotografie che i disegni in questo caso, con attenzione naturalmente alla tecnica di esecuzione di questo apparato, soprattutto plastico, che con i mezzi attuali secondo me può dare la perfezione del calco dell'originale.